Buongiorno a tutti e benvenuti a Il ricercatore e il suo microscopio, questa visita virtuale che abbiamo deciso di organizzare qui al PAS Biomed dell'Università di Pavia, che costituisce il principale centro dedicato alla strumentazione scientifica per l'osservazione molecolare e cellulare a disposizione dei nostri ricercatori. L'evento in cui vi condurrò in questa ora che trascorremo insieme sarà dedicato all'osservazione di strumenti che ci consentono di osservare macromolecole biologiche e cellule in contesti diversi, conosceremo i protagonisti di queste ricerche che ci racconteranno anche qualche cosa di quelle che sono le attività in corso. Vi ricordo che questo evento fa parte dell'iniziativa Sharper, Notte Europea dei Ricercatori, è uno dei tanti eventi che stiamo organizzando durante questa intensa settimana e vi faccio presente che c'è un questionario di gradimento e vi chiediamo per cortesia di compilarlo, lo trovate qui sotto al video della diretta nelle informazioni della pagina YouTube. Ma senza aspettare ulteriormente vi dico soltanto più che se volete potete inviarci durante la diretta domande e curiosità per cui sentitevi liberi di scrivere direttamente come commenti sulla pagina YouTube e nei limiti del possibile cercheremo di rispondere. Io sono Federico e sono uno degli utenti di questo centro e adesso vi condurrò nelle varie stanze cominciando dalla stanza dedicata agli strumenti chiamati citoflorimetri. Andiamo. Ecco, stiamo entrando nella stanza dedicata ai citoflorimetri e penso che sia proprio opportuno iniziare con il nostro Alberto, tecnico del Dipartimento di Biologia e Biotecnologia dell'Università, a cui chiediamo che cos'è un citoflorimetro e come funziona. Il citoflorimetro è uno strumento impiegato oramai da molti anni nell'ambito della clinica, della ricerca. Inizialmente veniva utilizzato soprattutto per lo studio di ciclo cellulare perché è possibile quantificare il DNA nella cellula. Ora più in generale diciamo che può essere utilizzato ed è utilizzato per caratterizzare dal punto di vista molecolare e biochimico le cellule che si trovano in una soluzione liquida. Questo grazie all'impiego di marcatori fluorescenti. Lo strumento di per sé come appare è una scatola, però all'interno contiene numerosi apparati come laser, filtri ottici, specchi, detector. Tra un po' vi mostreremo anche l'interno di uno di questi e grazie appunto a questo sistema è possibile ottenere dati come adesso potremo vedere in un'immagine che vi in cui abbiamo tanti puntini sul grafico, ogni puntino rappresenta una cellula ed essendo la caratteristica principale dei citofluorimetri la possibilità di analizzare migliaia e migliaia di cellule al secondo, otteniamo delle nuvole. Queste nuvole rappresentano una popolazione di cellule con le stesse caratteristiche. Un'ulteriore possibilità che offre questa macchina è di poi caratterizzare sottopopolazioni a diversi livelli fino ad arrivare a isolare la popolazione di cellule di interesse per poterla poi studiare in modo più dettagliato. Ad esempio la macchina che abbiamo qui sulla destra è proprio in grado di fare questo, cioè separare la popolazione cellulare e trasferirla dal tuo principale che porta il ricercatore in un tubo secondario che poi il ricercatore recupera e continua la ricerca nel proprio laboratorio. Una terza macchina diciamo che rappresenta un po' il tradunione tra il laboratorio di citometria e i laboratori di microscopia che adesso andrete a vedere perché è sia un citofluorimetro però è in grado anche di acquisire immagini. Quindi ogni spot che prima vedevamo sul grafico rappresenta quindi una cellula che questo strumento è in grado di fotografare. Di fatto fotografa migliaia e migliaia di cellule al secondo. Ora possiamo vedere anche un esempio pratico di quello che può produrre questa macchina. Ecco e qui abbiamo proprio Sergio Comincini, uno dei ricercatori del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie e anche uno dei principali attori nell'utilizzo proprio di questo complesso strumento. Sergio ci racconti come vanno le tue ricerche e che cosa si può fare con questa complessa macchina? Tra l'altro vedo un sacco di apparati ottici che mi affascinano sempre. Sì esatto, come diceva anche Alberto e vi spiegava c'è una componente fisica con i laser di eccitazione, la parte diciamo di microfluidica e poi in più abbiamo la componente di microscopia che consente appunto di poter visualizzare sia la popolazione cellulare nel suo insieme che anche la singola cellula, il singolo evento. Come per esempio potete vedere da un'immagine esemplificativa di alcuni nostri esperimenti, riusciamo in pratica a seguire la dinamica di una popolazione e anche a visualizzare la singola cellula in questo caso nell'atto di incorporare delle nano vescicole che sono state caricate con dei composti terapeutici fluorescenti. Quindi misurare in maniera anche analitica l'efficienza con la quale una cellula internalizza un determinato composto e per esempio nell'immagine successiva possiamo anche spingerci a cercare di comprendere in che localizzazione subcellulare il nostro composto veicolato all'interno della cellula è in grado di raggiungere un determinato target subcellulare o anche molecolare. Fantastico, quindi in pratica con questi strumenti possiamo partire da una miscela complessa, separarla in quelle che sono le sue unità costituenti fondamentali, quindi le diverse cellule che presentano diverse caratteristiche e anche trattarle in modo diverso per vedere appunto quella che può essere la loro risposta a determinate sostanze. Notevole, notevole davvero. E quanti laser, quanti canali luminosi possono essere utilizzati contemporaneamente? Sì, al momento abbiamo due laser equipaggiati allo strumento, però lo strumento è espandibile nelle sue capacità e ovviamente questo è un po' dipende diciamo dalle necessità dei ricercatori, quindi è uno strumento che si può ancora configurare e renderlo ancora più performante volendo. Eccezionale, grazie mille davvero. Allora abbiamo iniziato la nostra escursione osservando macchine capaci appunto di separare popolazioni di cellule, andiamo a vedere come possiamo osservare nel dettaglio quelli che sono i dettagli caratteristici di ogni singola cellula attraverso marcatori. Andiamo nella parte di microscopia ottica del PAS Biomed, quindi ci spostiamo, usciamo da questa stanza e ci spostiamo verso l'ala sinistra di questo lungo corridoio, in cui di fatto sono presenti diverse stanze che ospitano i più avanzati microscopi ottici disponibili qui all'Università di Pavia. E qui entriamo proprio in una stanza dove c'è una delle Ferrari della microscopia ottica, il microscopio STED, e troviamo Amanda, uno dei tecnici di questa facility che si occupa appunto di questi strumenti, e Giulia, ricercatrice del DBB, che ci racconterà qualcosa. Amanda, ci descrivi come è fatto uno STED e che cosa si può fare con questo strumento? Esattamente, innanzitutto ciao Federico e ciao a chi ci sta ascoltando, qui ci troviamo nella stanza del microscopio STED, che è un microscopio a fluorescenza, quindi è un microscopio che sfrutta la capacità di alcune molecole di emettere luce per andare a visualizzare delle strutture di interesse, ad esempio all'interno di una cellula, è un microscopio confocale ed è dotato di un modulo di superrisoluzione, la STED per l'appunto, STED è l'acronimo di Stimulate Demission Deplation. È un microscopio particolarmente potente, considerate che la superrisoluzione, la STED, è una tecnica molto recente, a circa una quindicina d'anni, ed è una tecnica che ha permesso di infrangere le barriere della fisica e di spostare il potere risolutivo di un'acquisizione in fluorescenza da qualche centinaio di nanometro a qualche decina di nanometro, che è veramente rivoluzionario, perché se noi per esempio volessimo andare a localizzare una proteina a livello intracellulare con un approccio standard, lo faremmo con una precisione circa di 200 nanometri, che è veramente poco considerando, correggimi se sbaglio, che una proteina ha una dimensione di qualche nanometro al massimo. Assolutamente corretto. Se invece lo vediamo attraverso un approccio di superrisoluzione, riusciamo a individuare l'acquisizione della proteina con una risoluzione 10 volte superiore, quindi nell'arco di circa 20-30 nanometri. Rimane il fatto che la superrisoluzione, per quanto potente, è una tecnica molto particolare, per cui nella stragrande maggioranza dei casi questo strumento viene utilizzato nella sua configurazione confocale. La confocalità significa che questo strumento è in grado di operare un sezionamento ottico, che sono parole difficili per indicare una cosa molto semplice. Se questo è il vostro campione, si vanno ad acquisire dei piani successivi in fluorescenza di questo campione e se ne ricostruisce poi via software la sua struttura tridimensionale. Vi faccio vedere un attimo come è fatto questo microscopio. Qui è la parte dedicata all'eccitazione della fluorescenza, sono i box dei laser per la superrisoluzione e per la modalità confocale. Questa è la testa di scansione, è il cuore del sistema perché qui dentro è contenuta tutta l'elettronica. Qui c'è il microscopio vero e proprio, mentre questa è la parte software. Come potete vedere il microscopio è inglobato in un box di plexiglass, significa che qui noi possiamo realizzare degli esperimenti di lifestyle imaging, ovvero degli esperimenti su cellule mantenute in condizioni vitali. Quindi possiamo seguire nel tempo i processi biologici nel loro divenire. Considerate che questo incubatore è in grado di mantenere la corretta temperatura e le corrette condizioni ambientali per permettere di mantenere la giusta vitalità del campione e le giuste condizioni fisiologiche. Tornando un attimo indietro a quella che è poi la tecnica principe del microscopio confocale mi piacerebbe mostrarvi questa ricostruzione tridimensionale. Qui noi abbiamo uno scaffold, cioè una matrice, è una matrice di fibre di poliestere. Il poliestere lo vedete in azzurro, è naturalmente fluorescente, quindi non c'è bisogno di marcarlo. Su queste fibre sono stati depositati dei fibroblasti. I fibroblasti sono cellule del tessuto connettivo. I fibroblasti sono marcati invece con coloranti fluorescenti specifici per individuare il nucleo in rosso e l'actina in verde per il citoplasma. Questo ci permette di individuare non solo la posizione ma anche la morfologia delle cellule. Come vedete dalla ricostruzione 3D queste cellule crescono molto bene su questo substrato e riescono in qualche modo a avvindiarsi al substrato stesso. Questo lavoro è stato realizzato in collaborazione con la professoressa Sandri dell'Università di Pavia che si occupa di rigenerazione tessutale. Molto bello, grazie mille. Ed è affascinante vedere quante diverse tipologie di applicazioni sono presenti e si possono fare con questo strumento. Per esempio Giulia tu sei una microbiologa per cui ci racconti qualcosa di quello che fai con questo strumento, di che cosa puoi studiare? Certo, buongiorno. Noi con questo strumento possiamo analizzare la crescita dei batteri in diretta in diverse condizioni. Per esempio in assenza o in presenza di composti di cui vogliamo studiare la capacità di inibire la proliferazione delle cellule batteriche. Noi infatti nel nostro laboratorio ci occupiamo di identificare nuove strategie terapeutiche e nuovi farmaci diretti contro batteri che causano infezioni molto gravi in pazienti fragili e immunocompromessi. E questi strumenti sono essenziali per il nostro lavoro perché ci permettono di studiare molte caratteristiche di questi batteri, come la loro capacità di formare biofilm o la localizzazione di alcune proteine al loro interno o appunto la loro crescita. Ascolta, ci è arrivata una domanda nella chat, ci chiedono che cos'è un biofilm? Sì, il biofilm è una comunità di cellule batteriche che crescono adese ad una superficie quale può essere un tessuto del nostro organismo o un dispositivo medico come un catetere. Queste comunità di batteri hanno una struttura molto complessa e articolata che possiamo studiare per esempio usando un composto che si va a legare al DNA ed emette una fluorescenza nel verde. In questo modo ogni puntino verde che vediamo sono molecole di DNA e quindi sono batteri. È come se stessimo osservando una metropoli, una città di cellule batteriche e grazie al microscopio confocale che ci permette di analizzare i diversi piani del campione, riusciamo a ricostruirla e a misurare per esempio qual è la densità o l'altezza dei grattacieli che i batteri sono stati in grado di costruire. Una città grande qualche millimetro e non di più, anzi forse anche qualche frazione di millimetro. Sembra molto di più un microscopio. Bellissimo, bellissimo. Grazie mille, buon lavoro allora. Adesso ci spostiamo a vedere un altro di questi super microscopi ottici. Andiamo a vedere un microscopio chiamato DLS o Digital Light Sheet. Si trova a un paio di stanze più in là. Quindi dobbiamo continuare a percorrere questo corridoio in cui troviamo altri strumenti che vengono utilizzati per tutta una serie di osservazioni ottiche di tipologie differenti ma in particolare credo che valga proprio la pena soffermarsi su questo. Dove troviamo Patrizia Vaghi, tecnico del Centro Grandi Strumenti e Patrizia Sommi, ricercatrice del Dipartimento di Medicina Molecolare. Patrizia, ci presenti questo microscopio e quelle che sono le sue potenzialità? Allora, quello che vedete qui accanto a me è un microscopio confocale DLS che vuol dire Digital Light Sheet. La particolarità del microscopio confocale e in particolare del DLS è quello di riuscire ad acquisire e ricostruire immagini sia bidimensionali che tridimensionali. Ovviamente perché questo sia possibile noi dobbiamo colorare i nostri preparati e per questo vengono utilizzati quelli che sono detti traccianti fluorescenti. I traccianti fluorescenti sono delle molecole particolari che sono in grado di assorbire luce di una determinata lunghezza d'onda ed emettere luce ad una lunghezza d'onda successiva. Per essere più semplici, se noi utilizziamo una molecola che assorbe luce nel blu molto probabilmente avremo un'emissione di fluorescenza verde così come una molecola che assorbe luce nel verde ragionevolmente emetterà nel rosso. E questo cosa ci consente? Ci consente di andare a studiare e a rilevare più strutture all'interno del nostro preparato. Ad esempio, in questa immagine che potete vedere, abbiamo una coltura cellulare. Coltura cellulare cosa vuol dire? Che cellule singole vengono seminate su apposite strutture e in condizioni ambientali ottimali, quindi di temperatura, pH, CO2, eccetera, crescono. In questo caso, quello che si voleva andare a vedere e che è stato evidenziato è il numero dei nuclei, che sono questi in blu, presenti nella struttura, mentre quello in verde è il citoscheletro, quando con citoscheletro si intende l'impalcatura cellulare, la struttura che serve a mantenerne l'integrità. Questa immagine è stata acquisita dal gruppo della dottoressa Riva dell'Università di Pavia ed era mirato a capire se morfologicamente ci fossero delle alterazioni a livello di citoscheletro, quindi a livello della colorazione verde rispetto a un controllo non trattato. Molto bello. Ascolta, rispetto al microscopio che abbiamo visto un attimo fa con Amanda, questa macchina sembra relativamente più semplice, dove sta la sua complessità? Allora, sembra relativamente più semplice, forse perché è un po' più piccola da vedere. In realtà abbiamo anche in questo caso la testa di scansione con all'interno il modulo DLS. Quello che cambia, se volete, è quella box di Plexiglas, che di là avete visto, che qui non c'è, perché è semplicemente più piccolo. E' questo. E' una piccola camera termostatata che consente di vedere tutti i preparati in vivo. Ma la particolarità del DLS rispetto alla super risoluzione che avete visto prima è proprio la diversa illuminazione del preparato. Cosa vuol dire? Allora, tento di spiegarvelo in questo modo. Se questo è il vostro preparato, quello che fa lo strumento è creare un foglietto di luce. Il foro l'ho dovuto creare io, ovviamente, il foglietto è intero, che passa attraverso tutto il vostro preparato in questo modo. Detto così, sembra semplice. In realtà sono processi estremamente veloci, in modo tale da consentire al foglietto di luce di illuminare una sezione, si sposta sotto e poi ancora sotto e viceversa. E quindi illumina tutta una serie di sezioni del nostro preparato. A questo punto cosa succede? Succede che il software recupera le informazioni che derivano da tutte le sezioni tridimensionali e ricostruisce la nostra immagine, che potrebbe, ad esempio, essere questa. Questa è un'immagine tridimensionale del gruppo della professoressa Torre, sempre dell'Università degli Studi di Pavia. Questo strumento nasce per la ricostruzione tridimensionale. Una cosa estremamente interessante e importante è che la velocità di acquisizione è molto, molto veloce. E quindi questo consente di acquisire preparati molto spesso, e con molto spessi intendo anche mezzo centimetro. Ed essendo l'acquisizione molto veloce, non solo consente questo, ma consente anche di mantenere vitali i preparati. In particolare si possono studiare anche piccoli animaletti, come embrioni di zebra, fish, pescetti, e embrioni di drosofila, di cui però vi parlerà molto meglio di me la dottoressa Sommi del Dipartimento di Medicina Molecolare. Bellissimo, in effetti siamo proprio curiosi di sentire che cosa si può fare studiando la drosofila con questi strumenti. Patrizia? Certo, io ve lo spiego. Intanto vi faccio vedere un'immagine. Questa è un'embrione di drosofila. Le dimensioni reali sono di un millimetro, e il fatto che lo vediate fluorescente è perché l'embrione stesso esprime una proteina in verde fluorescente, che nella fattispecie è la tubulina, l'elemento base dei microtubuli, che costituiscono i fusi mitotici, che presiedono poi alla segregazione dei cromosomi. Io lavoro utilizzando la drosofila. La drosofila melanogaster è l'insetto che tutti conosciamo come il moscerino della frutta, ma è un modello sperimentale, un modello animale, molto utilizzato nei laboratori, in tanti laboratori, per diversi tipi di studi. E questo grazie al fatto che ha alcune peculiarità che lo rendono particolarmente adatto allo scopo, che altri modelli animali non offrono. In questo caso, ad esempio, uno dei vantaggi è proprio il ciclo vitale, che è molto breve. Infatti, per passare dall'embrione, dal stato embrionale, alla formazione della mosca intera, matura, diciamo, ci vogliono dieci giorni. E la mosca poi vivrà per alcune settimane. Quindi il ciclo è molto breve in confronto ad altri animali, ad esempio ad altri modelli animali. Di questo ciclo, tutti i cicli, quindi le trasformazioni che avvengono durante il ciclo vitale, diciamo che la fase embrionale è in effetti una fase molto interessante, che ha alcune peculiarità, specie per chi studia proprio la mitosi, i meccanismi di mitosi. Allora, perché è importante? Perché è interessante? L'embrione, vi ho detto, è un millimetro, quindi in un millimetro, quella si può considerare una cellula intera, che contiene diversi nuclei. Questi si dividono per otto volte, rimanendo all'interno dell'embrione, all'ottava divisione. I nuclei migrano verso la superficie dell'embrione e si localizzano tutti in modo uniforme. A questo punto, per le successive cinque divisioni, si dividono in modo sincrono, contemporaneamente, e quindi, in questo modo, avendo a disposizione i microscopi di altra tecnologia come quelli che sono presenti in questo centro, è possibile visionare, analizzare, vedere al microscopio decine di divisioni cellulari. Come vedete nell'esempio, dove si vedono fusi mitotici in verde e in rosso, invece, è l'actina. Lì, vedete nell'immagine, vedete la sequenza della formazione del fuso e, successivamente, segregazione, il fuso più allungato, che provvede alla segregazione dei cromosomi. Ecco, quello di cui mi occupo io, nella fattispecie, e perché uso l'embrione di idrosofila, è perché studio l'interazione tra cellule e nanoparticelle. E, della fattispecie, utilizzo l'embrione per iniettare queste nanoparticelle e andare poi a vedere come questa interazione può indurre una modificazione, un'alterazione nella struttura dell'embrione stesso, o della distribuzione delle cellule e così via, confrontandola, ovviamente, con un embrione di controllo. Una volta iniettato l'embrione, giusto dal punto di vista tecnico, come si procede, l'embrione viene montato in questa cameretta, posizionato all'interno del capillare che vedete nella Petri. Tengo a precisare che in questo stadio di preparazione l'embrione è vitale. Quanto è grande l'embrione? L'embrione ha proprio la dimensione di un millimetro neanche. E, esatto, in questa fase viene poi acquisite le immagini che avete visto. Possiamo rivedere di nuovo le immagini dell'embrione, giusto per dirvi che si misurano poi in fase di analisi quelle diverse cellette che vedete in questo embrione che vi facciamo vedere in questa ricostruzione tridimensionale. Molto bene, molto bene. C'è un altro, se volete vedere un altro esempio di questo... Certo, volentieri. Vi possiamo far vedere, sempre relativamente all'adrosofila, in questo caso la mosca adulta, ci sono, si possono ad esempio, osservare dei muscoli propri, le fasce muscolare dell'adrosofila. In questo caso state vedendo il muscolo dell'adrosofila che presiede al movimento alare della mosca e potete vedere come i nuclei sono in blu e l'actina, la parte di actina, la parte contrattile del muscolo, si può vedere in verde. E questo è un altro esempio di quello che si può fare con questo bellissimo microscopio. Grazie mille Patrizia, grazie mille anche all'altra Patrizia. Tra l'altro, proprio mentre la nostra Patrizia stava descrivendo il microscopio, ci è arrivata una domanda, secondo me, azzeccatissima. Ci è stato chiesto perché ci sono così tanti tecnici. Abbiamo visitato tre stanze e abbiamo visto tre tecnici dedicati. Ecco, questa è una cosa, secondo me, fondamentale. Perché? Perché stiamo parlando di apparecchiature, tutte quelle che stiamo vedendo, che costano centinaia di migliaia di euro. A volte anche superano il milione. Sono macchine complesse, sono macchine così avanzate che se non c'è il personale dedicato a fianco dei ricercatori, a volte risulta anche difficile semplicemente trasformare quella che è magari una nostra idea di ricerca in quella che è la concretezza poi di un risultato. Per cui da questo punto di vista è fondamentale che ci siano le persone giuste, gli esperti che sanno maneggiare gli strumenti di fianco agli esperti, diciamo, delle indagini scientifiche che vogliamo porci. Abbiamo chiuso la parte dedicata alla microscopia ottica e adesso vi vorrei portare a vedere alcune caratteristiche invece degli altri microscopi che sono ospitati in questo centro, che sono i microscopi elettronici. E vorrei cominciare andando a vedere come si può preparare un campione per la microscopia elettronica. Quindi ci spostiamo in questa stanza dove troviamo tra l'altro una dottoranda del mio gruppo di ricerca, Serena, ben trovata, ciao, che sta preparando griglie per la microscopia elettronica. Per cui mentre Serena armeggia con le apparecchiature necessarie per la preparazione delle griglie vi racconterò che cosa sta facendo. Sta depositando un piccolo campione di proteina su quella piccolissima griglia attaccata a quella pinzetta metallica. Quella griglietta è grande 3 mm e ora sta eseguendo una procedura chiamata blotting che può sembrare banale nel senso che si tratta di asciugare l'eccesso di campione presente ma è fondamentale per creare quel sottilissimo strato di campione che consente proprio la preparazione. E a questo punto va a depositare sulla griglia quello che è un colorante che in questo caso è un colorante composto da metalli pesanti acetato di uranile e per questo vedete tutte le precauzioni che vengono adottate e svolge questa procedura con questa specie di massaggio dedicato proprio alla preparazione della griglia. Di fianco a Serena vedete questo apparecchio che si chiama Glow Discharge che è lo strumento che serve per preparare le griglie quindi consente di depositare su di esse uno strato di cariche in modo tale che le griglie possano poi ricevere efficacemente il campione e il video che state vedendo mostra proprio il Glow Discharge in azione che genera questo strato violetto di plasma caratteristico proprio della procedura di deposizione di cariche sul campione stesso. Adesso lasciamo terminare l'operazione a Serena così che ci potrà raccontare qualcosa anche di che cosa stai caricando oggi che cosa stai preparando? Certamente, buongiorno. Allora, io lavoro su queste proteine appunto che sono molto importanti in quanto si trovano all'interno della retina umana e sono responsabili se mutate di alcune malattie genetiche umane gravi che portano alla fine a cecità notturna congenita ma in particolare io mi occupo di capire come sono fatte queste proteine cioè di determinare la loro struttura attraverso delle tecniche sia di cristallografia sia di microscopia elettronica come nel caso dell'esperimento che vi sto mostrando. Naturalmente, per chi non è del campo viene da domandarsi perché è così importante capire come è fatta una proteina? È molto importante perché molto spesso capire la struttura significa anche avere degli indizi molto importanti sulla funzione di una proteina e sulla sua disfunzione nel caso di malattie è oltretutto molto importante per poter disegnare delle molecole attive cioè dei farmaci che vanno proprio a riconoscere quella specifica proteina mutata e non un'altra come una chiave può aprire una e una sola serratura. Grazie mille Serena molto chiara e ovviamente questo passaggio svolto da Serena è il primo necessario proprio per arrivare ad ottenere informazioni sulle strutture delle proteine e la preparazione del campione che Serena ha appena svolto è di fatto un passaggio che noi facciamo per esempio nel mio laboratorio di routine lo facciamo pressoché tutti i giorni per poter verificare la qualità del materiale prima di poterlo andare a assaggiare poi nelle macchine ad alta performance e questo controllo qualità che andiamo a svolgere viene fatto prima di tutto con uno strumento che se lo confrontiamo con quelli che abbiamo visto finora può sembrare quasi vecchio obsoleto probabilmente tra le persone che ci stanno seguendo ce ne sono parecchie che sono addirittura più giovani dello strumento che stiamo per andare a vedere ma vi garantisco che a volte oltre alla Ferrari serve anche il muletto quindi andiamo a vedere il muletto della microscopia elettronica dell'università di Pavia lo troviamo in questa stanza prego oh è qui è presente il nostro Massimo tecnico del centro grandi strumenti che si occupa proprio di microscopia elettronica insieme a Luigi che è un senior post hoc del mio gruppo che sta analizzando da quello che vedo direi un altro campione Luigi senti prima di descriverci che cosa stiamo guardando oggi qui al microscopio in attesa dei campioni di Serena ci dici come è fatto questo microscopio visto che comunque è molto diverso rispetto a quelli che abbiamo visto finora sì ciao Federico e ciao a tutti benvenuti questo che vedete è un microscopio elettronico a trasmissione e la colonna che vedete di fronte a voi è il vero e proprio cuore pulsante del microscopio ed è una colonna riempita di vuoto cioè una pompa a vuoto mantiene il vuoto all'interno di questa colonna là sopra in alto in cima c'è la sorgente degli elettroni che è quello che ci permette poi di visualizzare il campione e ci sono tutta una serie di lenti che permettono al fascio di elettroni di essere condensato sul nostro campione che è qui il fascio di elettroni poi arriva in fondo e possiamo vedere l'immagine in questo caso ingrandita circa 500 volte di quello che è presente nel nostro campione e in particolar modo questo è uno schermo al fosforo che ci permette di avere un'idea iniziale di come è fatta la nostra griglia simile a quella che ha preparato Serena in precedenza adesso Massimo sta ingrandendo un po' il nostro campione e in realtà poi per vedere più nel dettaglio quello che il campione di nostro interesse ci avvaliamo della camera che ci permette appunto di vedere nel dettaglio il nostro campione anche perché mi sentirei di dire che 500 ingrandimenti sono un po' pochini 500 ingrandimenti sono pochi sì in realtà noi con questo microscopio arriviamo a 150.000 ingrandimenti quindi vediamo le nostre molecole ingrandite 150.000 volte in più e in particolar modo quello che state vedendo sullo schermo che sono sostanzialmente vedete delle specie di vermetti bianchi su uno sfondo nero sono esattamente le nostre molecole cioè l'acetato di uranile come vi diceva prima Serena è elettron denso quindi tende ad avere una si vede scuro rispetto alle nostre immagini in bianco e nero mentre le nostre molecole sono quelle bianche perché l'elettrone attraversa le nostre molecole e le permette di visualizzarle ovviamente questo è un passaggio preliminare per capire qual è la struttura delle proteine e sostanzialmente questa tecnica ci permette di capire se il campione è promettente e come è distribuito il nostro campione ascolta vedo che vicino a te c'è una scatola con delle griglie ce le fai vedere giusto così per dare un'idea a chi ci sta seguendo di quanto sono effettivamente piccole più che grandi assolutamente questi retini portacampioni come vi dicevo 3 mm di diametro e su questi possono andare centinaia di migliaia di molecole che poi verranno osservate attraverso la microscopia va bene vi lasciamo alla vostra osservazione vi ringraziamo e vi auguriamo buon lavoro buon proseguimento e di nuovo vedete come l'essenzialità della presenza del tecnico per maneggiare una macchina così complessa vi dicevo prima che questo microscopio non è propriamente nuovissimo ecco non vi ho detto è del 1994 94 vero Massimo ecco 1994 e nonostante tutto funziona ancora tutti i giorni a pieno regime ma come dicevamo prima oltre al muletto c'è la Ferrari perché Gigi ci spiegava che quando osserviamo un campione che è stato colorato con l'acetato di uranile riusciamo ad arrivare fino ad un certo livello di dettaglio ma non possiamo spingerci oltre proprio per le proprietà intrinseche di questo colorante e allora per poter visualizzare le proteine che ci interessano noi siamo biologi strutturali per cui di mestiere cerchiamo di fare proprio questo arrivare a vedere quello che non si riesce a vedere con un microscopio normale utilizziamo espedienti e l'espediente che si utilizza in questo caso è quello che ha consentito l'ottenimento del premio Nobel per la chimica qualche anno fa ed è l'osservazione in criogenia sostituiamo il colorante a base di metalli pesanti con un ghiaccio che è totalmente trasparente al fascio di elettroni e andiamo a vedere come si prepara questo ghiaccio andiamo in una delle stanze diciamo più delicate e più particolari di questo centro andiamo a vedere la preparazione dei campioni criogenici Francesca sta proprio in questo momento effettuando una procedura chiamata plunging dove avete visto sparare quell'asticella dentro quel recipiente pieno di liquido fumante ecco in realtà quel recipiente contiene etano liquido mantenuto in azoto liquido proprio per consentirne le proprietà e questa procedura ha sparato una griglietta molto simile a quella che abbiamo appena visto anche utilizzata da Luigi contenente proteina depositata generando quel ghiaccio particolare che ci consente proprio di osservare i campioni in microscopia ora le operazioni sono piuttosto complesse e difficilmente Francesca riuscirà a svolgere tutte quante le operazioni di preparazione di quella griglia ma quello che ci farà vedere sarà come di fatto la cassetta che contiene i campioni viene poi caricata nel microscopio elettronico criogenico ecco vediamo la capsula che Francesca ha preparato e la vediamo entrare nella stanza del microscopio elettronico notate prima di tutto quanto è diverso questo microscopio elettronico rispetto a tutti quelli che abbiamo visto in precedenza alla fine sembra anche un po' meno bello nel senso che è uno scatolone gigante ma vi garantisco che quando uno ha un ricercatore ha a disposizione uno scatolone da due milioni di euro come questo è tutto fuorché non eccitante averlo a disposizione vedo il sorriso di Francesca perché probabilmente i campioni che sta caricando sono molto importanti Francesca ci dici qualche cosina su che cosa stai misurando e su che cosa lavori ben detto questo è uno strumento fantastico il campione che ho appena inserito nel microscopio è una proteina che si chiama trasportatore dell'eme l'eme di cui appunto mi interessa capire il funzionamento l'eme è una molecola che lega l'ossigeno e quindi è fondamentale per la vita esistono mutazioni sul gene di questo trasportatore che causano due malattie genetiche e questo microscopio potentissimo ci consente di osservare ad altissima definizione quindi a livello atomico siamo ai confini tra la biologia e la fisica a livello atomico le distorsioni causate da queste mutazioni sul trasportatore quindi capire perché viene inattivato in futuro questi dati ci consentiranno di individuare delle terapie farmacologiche che andranno a riparare il difetto causato da queste mutazioni e quindi alleviare i sintomi dei pazienti affetti da queste malattie genetiche grazie Francesca allora ti lasciamo probabilmente adesso dopo una breve fase di preparazione andrai ad osservare effettivamente il tuo campione ci tengo a mostrare una caratteristica fondamentale del microscopio che non abbiamo visto nell'altro microscopio che è tutto questo apparato dedicato proprio all'approvvigionamento di azoto liquido perché tutto il microscopio nella sua interezza e tutta la parte che ospita i campioni è mantenuto alla temperatura dell'azoto liquido costantemente per far sì proprio che i campioni non si deteriorano e possano essere misurati nelle condizioni migliori l'altra cosa che ci tengo a farvi notare di questa stanza che immagino avete notato è che a differenza di tutte le altre non c'è una postazione per fermarsi e operare sul microscopio e il motivo è perché questa stanza è un po' come un piccolo santuario quello che succede all'interno del microscopio non deve essere disturbato da nulla perché stiamo misurando ad una risoluzione così alta tale per cui anche la mia voce in questo momento potrebbe disturbare l'esperimento e quindi a seguito dell'operazione di caricamento dei campioni che abbiamo visto fare da Francesca ci si sposta in un'altra stanza dove sono presenti tutte le stazioni di controllo e andiamo a vedere proprio come viene svolta questa procedura quindi ci spostiamo qui di lato nota a margine questo questo centro questo centro è stato costruito appositamente diciamo per ospitare gli strumenti che state vedendo e quindi diciamo che gli abbiamo un po' fatto le stanze attorno alle macchine e approfitto per ricordare a tutti che ovviamente se avete domande da fare durante la diretta postatele come commenti su youtube e vi ricordo anche il questionario di gradimento da compilare alla fine molto importante per noi spostiamoci pure nella stanza di controllo del microscopio elettronico dove ormai non è più una novità troviamo un tecnico dedicato che in questo caso è il nostro Andrea Alfieri a cui chiedo di spiegarci il perché di questa complessa console fatta di tantissimi comandi tantissimi schermi e di raccontarci in che modo si opera sul microscopio elettronico questa è la postazione di controllo del microscopio creo elettronico dalla quale io posso lavorare direttamente su un campione preparato nella maniera che avete appena visto prima perché questa postazione ci vuole una postazione del genere perché il microscopio creo elettronico è uno strumento di altissima tecnologia lavora con un'alta tensione 200 kV in alto vuoto su campioni estremamente raffreddati e in modo particolare dispone di un detector di ultima generazione così sensibile da riuscire a rilevare i singoli elettroni e il perché di tutta questa tecnologia è perché noi vogliamo spingerci sempre più avanti e quindi osservare oggetti sempre più piccoli con la migliore risoluzione possibile e quindi per esempio da questo schermo io posso controllare direttamente il campione posso vederlo a diversi ingrandimenti l'ingrandimento più basso vedo l'intero campione la griglia su cui è stato depositato posso apprezzare che è fatta di un reticolo di barra di rame a maggiori ingrandimenti posso apprezzare anche il sottile strato di carbonio su cui il nostro campione è stato depositato che è tutto bucherellato e infatti noi vogliamo proprio che il nostro campione finisca all'interno di questi buchini tondeggianti per poterlo fotografare a questi a questi ingrandimenti si può anche apprezzare la densità la qualità lo spessore del ghiaccio che è un ghiaccio vitrificato che è una caratteristica molto importante per avere una buona raccolta dati e quindi noi possiamo impostare il software che controlla il microscopio che è elettronico e dirgli ad esempio di raccogliere anche per giorni consecutivi una tipica raccolta dati dura diversi giorni noi raccogliamo migliaia di immagini nel nostro campione e da queste migliaia di immagini si estrapolano milioni di singole fotografie di una nostra molecola che vogliamo studiare ad esempio una proteina che viene così fotografata milioni di volte come è stata vitrificata nel ghiaccio vitrificato orientata in tutte le direzioni possibili ascolta Andrea è appena arrivata una domanda in diretta che chiede che percorso di studi hanno fatto i tecnici che operano in queste stanze per cui chi meglio di te per raccontarci appunto il percorso che ti ha portato qui io personalmente io sono laureato in biologia e indirizzo molecolare e poi ho fatto un dottorato un dottorato di ricerca che di solito è il percorso che si segue quando ci si vuole dedicare alla ricerca scientifica la maggior parte dei tecnici che lavorano qui ha un percorso simile e l'esperienza legata alla capacità di utilizzo di uno strumento così complesso da dove deriva? l'esperienza deriva sicuramente da strumenti di questo tipo utilizzati nel corso della mia carriera scientifica per cui è importante avere un buon background di alcuni anni e farsi un buon background in modo tale che uno poi possa mettere le mani su strumenti così sofisticati e mi sentirei di aggiungere anche una serie di corsi specifici che sono seguiti proprio all'installazione dello strumento ricordo per esempio la tua presenza qui dal giorno in cui io e te insieme abbiamo abbracciato i cassoni scaricati dal camion e vi garantisco che è stato un momento bellissimo perché comunque vedere arrivare veder nascere questo centro proprio giorno per giorno è qualche cosa che ti emoziona tanto quanto puoi poter utilizzare questi strumenti adesso che sono totalmente operativi e qui con noi oggi ci sono anche altre due persone che lavorano nel mio gruppo di ricerca Diana una neo postdoc del gruppo e Matteo uno studente Diana ci racconti in due parole la tua ricerca ciao Federico e buongiorno a tutti io e Matteo ci occupiamo di studiare una classe di proteine che ha un'attività enzimatica sul collagene che è una delle proteine più abbondanti all'interno del nostro organismo cosa fanno questi enzimi vanno ad apportare delle modifiche che sostanzialmente rendono il collagene funzionale nel momento in cui arriverà nei tessuti di sua competenza perché è importante studiare questa classe di enzimi perché sono coinvolti in alcuni stati patologici per esempio in patologie di natura genetica quando questi enzimi subiscono delle mutazioni e inoltre si è visto recentemente che sono sovraespressi in tumori solidi vuol dire che sono presenti in concentrazioni fuori dalla norma sostanzialmente e sono un marker di metastatizzazione quindi il nostro obiettivo è quello di studiarli in modo tale in un futuro speriamo prossimo poter mettere magari in atto una strategia di drug discovery che ci consenta per esempio di individuare un farmaco che sia specifico e selettivo per andare ad esempio a bloccare la metastatizzazione nei tumori solidi e ce l'auguriamo tutti in effetti tant'è che questo è uno dei progetti sostenuti dalla fondazione associazione italiana per la ricerca sul cancro nel laboratorio progetto molto importante grazie mille e Matteo ascolta vedo lì un'immagine che probabilmente avete raccolto non troppo tempo fa ci dici che cos'è e come mai diciamo che al pubblico probabilmente non sembrerà così accattivante con queste specie di biscetti in bianco e nero che cos'è che stiamo guardando? Buongiorno Federico buongiorno a tutti quella che osserviamo è un'immagine acquisita attraverso microscopia elettronica criogenica in particolare contiene una delle proteine oggetto dei nostri studi che come giustamente detto assomigliano a queste viscette di circa 30 nanometri di grandezza grandezza non osservabile attraverso convenzionali tecniche di microscopia ottica da qui la necessità di utilizzare queste strumentazioni più avanzate il nostro obiettivo è quello di riuscire a dareci un'idea sulla forma delle nostre proteine per poi come ha detto precedentemente Diana studiare una strategia per lavorarci bloccarle o in qualche modo agire sulla loro attività grazie Matteo sono poi bravi i nostri studenti qua pavia tra l'altro una cosa secondo me interessante proprio legata a questo tra l'altro è arrivata una domanda in diretta proprio in merito a questo che ci chiede come mai ci sono anche studenti e che cosa ci fanno gli studenti in questo centro beh gli studenti entrano tanto quanto le altre persone nel senso che nel momento in cui svolgono attività di ricerca per esempio nell'ambito dei loro internati di tesi come può essere l'internato di tesi magistrale Matteo è con noi ormai da quasi un anno se le necessità lo richiedono ovviamente gli strumenti sono a disposizione e come abbiamo visto ci sono tecnici dedicati c'è personale che può supervisionare può fare training Diana, Matteo ma anche le altre persone che abbiamo visto prima sono tutte persone che sono state esposte sono state istruite sulle operazioni che si possono e non si possono fare e da questo punto di vista sono più che benvenuti ovviamente ad accedere e a utilizzare anche direttamente gli strumenti che abbiamo visto questo era l'ultimo passaggio diciamo l'ultima stanza che ci tenevamo a mostrarvi relativa al Pass Biomed e mi auguro che la visita che abbiamo condotto in questa circa ora che abbiamo trascorso insieme sia stata di vostro gradimento vi chiedo per cortesia di compilare il questionario se vi va ovviamente se vi è piaciuto ma anche se non vi è piaciuto è molto importante sia per l'organizzazione Sharper sia per sapere se esperimenti come quello che abbiamo condotto con questa diretta possono essere qualche cosa da portare avanti per cui vi ringraziamo tutti per essere stati mi dicono numerosi a questa diretta ovviamente se ci fossero ancora domande tutte le persone che abbiamo incontrato sia quelle di questa stanza sia gli altri che sono qui fuori sono presenti per cui possiamo rimanere ancora un minuto insieme e volentieri rispondiamo ad eventuali altre domande nel frattempo io approfitto per ringraziare anche le persone che sono state dietro la telecamera che quindi non avete avuto modo di vedere ma che vi garantisco hanno fatto un lavoro eccezionale per permettere tutto questo Andrea Taccani Andrea Marcolini Diego Navati Stefania Muzio tutto lo staff della comunicazione dell'Università di Pavia e ovviamente ringrazio tutti voi sia per essere stati così responsivi a questo invito che vi abbiamo sparso attraverso i social e attraverso tutti i canali di comunicazione che ci sono venuti in mente e ci auguriamo veramente che questa particolare visita che purtroppo non abbiamo potuto svolgere in presenza vi sia piaciuta ci sono c'è qualche domanda no? ok allora io vi ringrazio ancora una volta e i contatti ce li avete li troverete poi anche sotto il link di Youtube nel caso ci fossero altre curiosità scriveteci contattateci e buona giornata e buon proseguimento con gli eventi Sharper grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti